10 degli alieni più pericolosi della galassia sono evasi dal carcere di massima sicurezza di Marte. Tutti i cacciatori d'Italia dovranno riuscire a catturarli! Alien! Gioco da tavola da 2 a 8 giocatori! L'obiettivo del gioco è seguire le piste degli alieni per riuscire a catturarli. Ogni volta che catturi un alieno dovrai metterlo di fronte a te, nella tua prigione. Se riesci a catturare 4 alieni avrai vinto la partita! Il gioco contiene un mazzo da 70 carte suddivise nelle seguenti tipologie. Carte, pista, carte, catturato, carte, cacciatore di taglie. Per preparare la partita mescola il mazzo di carte e dai 5 carte a ogni giocatore. Metti il mazzo con le carte rivolte verso il basso. Alza la prima carta e mettila al centro del tavolo per iniziare la partita. Nota! Se esce una carta a cacciatore di taglie o catturato, rimettila nel mazzo e pescale un'altra! Si gioca a turni! Quando arriva il tuo turno, gioca tutte le carte che vuoi, tra quelle che hai in mano. Dopo aver giocato, pesca dal mazzo il numero di carte necessario per averne di nuovo 5 in mano. Se all'inizio del tuo turno non puoi o non vuoi tirare nessuna carta, pesca una carta dal mazzo o tutte le carte necessarie per averne minimo 5 in mano. Dopo aver pescato, tocca al giocatore alla tua sinistra. Il gioco consiste nel tirare, una alla volta, una sopra l'altra, le carte pista che hai in mano che abbiano almeno un alieno uguale alla carta del tavolo, fino a riuscire a catturare un alieno. Come si catturano gli alieni? Puoi farlo in tre modi diversi. Quando arriva il tuo turno, puoi usare le carte catturato che hai in mano se l'alieno coincide con uno dei due alieni presenti nella carta sul tavolo. In questo caso, congratulazioni! Finalmente l'hai catturato! Adesso puoi metterlo in prigione, collocando la carta davanti a te. Una volta catturato l'alieno, continua a giocare con la carta del tavolo. Se riesci a giocare tutte le carte che hai in mano durante il tuo turno rimanendo senza, puoi rubare un alieno dalla prigione di un giocatore a tua scelta e metterlo direttamente nella tua prigione. Non potrai rubare un alieno se hai tre carte in mano o meno all'inizio del tuo turno. In ogni momento del gioco, anche se non è il tuo turno, se la somma alla saturazione dei due numeri della carta sul tavolo coincide con il numero della tua carta catturato, devi mettere la mano sul mazzo e urlare CATTURATO! A questo punto anche gli altri giocatori dovranno fare lo stesso e mettere velocemente la mano sulla tua. Togli una carta al giocatore che ha messo per ultimo la mano sul mazzo e non dimenticare di mettere l'alieno catturato nella tua prigione. Il giocatore che stava giocando continua la sua mano. E funziona allo stesso modo anche con la sottrazione. Se due giocatori catturano un alieno con la regola della somma e della sottrazione, solo il primo giocatore che metterà la mano sul mazzo potrà catturarlo. Se un giocatore mette per sbaglio la mano sul mazzo quando non deve, il giocatore che sta giocando in quel momento può togliergli una carta e aggiungerla alle sue. Attenzione! Tutti i giocatori devono tenere le carte con entrambe le mani. Come si usano le carte cacciatore di taglie? Queste carte possono aiutarti a vincere. Puoi usarle solo durante il tuo turno e si scartano in un mazzo a parte. Tipologie. Usa questa carta per toglierne una a un giocatore a tua scelta e aggiungila alle tue. Usa questa carta per rubare un alieno dalla prigione di un giocatore a tua scelta e mettilo tra quelle che hai in mano. Quest'alieno devi ancora catturarlo! Usa questa carta per rubare un alieno dalla prigione di un giocatore a tua scelta e mettilo direttamente nella tua prigione. Una volta finite tutte le carte dal mazzo, mescola bene quelle già giocate e le carte cacciatore di taglie per continuare a catturare altri alieni. Jolly! Una volta catturato l'alieno numero 0 non potrà essere rubato da nessun giocatore. I giocatori che ancora non sanno sommare o sottrarre possono rubare gli alieni usando il primo e il secondo metodo e le carte cacciatore di taglie. Ricorda, il giocatore che riesce a catturare per primo 4 alieni. Vince la partita! Giochiamo? Buona fortuna!